e amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati buonasera anzi siamo qui con maurizio lenzi siamo a fine giornata ormai anche un po stanchi ma soprattutto maurizio è stanchissimo perché oggi abbiamo girato veramente tanti video sugli agrumi ma non potevamo non girare un video sul kumquat giusto si pronuncia così che è quello che vediamo qui eccolo qui è un piccolissimo come possiamo chiamarlo mandarino sì un piccolissimo mandarino questo è il kumquat ovale o fortunella margarita perché in realtà poi esistono molti altri tipi di kumquat c'è il kumquat ovale che è questo c'è il kumquat rotondo che fa il frutto più rotondo proprio tondo tondo e quello in quel caso lì si chiama fortunella japonica è un'altra varietà ma la qualità del frutto è simile buona e dolce dentro il frutto si trova il succo che è un pochino più 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 acido diciamo ma la buccia la scorza è molto dolce e molto dolce e molto buona questo fa sì che il frutto ora l'ho colto per far vedere ma non è maturo ma quando è maturo si può mangiare tutto tutto è un insieme tra acido e dolce della buccia che è veramente buono si può anche candire il frutto frutto se uno ce la fa a farlo candito che è bravo a farlo candito è eccezionale si è veramente eccezionale e poi si possono fare altrimenti si possono fare le marmellate che vengono buone e poi insomma è una pianta molto ornamentale ma è piccolina e rimane così piccolina questa è un po bonsai è simile un pochino al chinotto cresce poco ha una vegetazione ridotta da rispetto ad altri agrumi contenuta però fruttifichi abbastanza bene la fioritura in questo caso qui del cunquat non è primaverile ma estiva fa diverse fioriture dalla da maggio diciamo da giugno dall'inizio di giugno fino a tutto settembre fa diverse fioriture da queste fioriture nascono i frutticini che ovviamente sono scalare maturazione scalare la fioritura di giugno avrà una maturazione più precoce la fioritura di settembre avrà una maturazione più quando è che cominciamo ad averla perciò natale sempre natale sempre natale fioritura precoce a natale già maturo qualcosa quindi sulla nostra tavola ci possono stare tutta la primavera tardiva fino a maggio aprile maggio quindi una piccola pianta come questa può darci veramente tanta soddisfazione perché vede è carichissima guarda quanti frutti che ha questa pianta qua è incredibile con una potatura abbastanza stondata diciamo forma abbastanza uniforme guarda quanti frutti che ha ma è un'altra cosa con curiosità che ti chiedo ma vedo anche che in un vaso cosa sarà un 18 non è un vaso di 20 centimetri 20 cioè non ha tantissima terra vuol dire è una varietà che cresce poco è molto non è molto vigorosa e ha bisogno di vasi piccoli nel vaso piccolo la pianta riesce a lavorare meglio e fare lavorare meglio produrre meglio anche se si dà un vaso più grosso alla pianta si rischia di fare di avere una bassa fruttificazione anche con la vegetazione limitata diciamo quindi questo è il vaso giusto per questo tipo di pianta nel momento in cui vogliamo una pianta più alta più grande andiamo a cambiare il vaso poco per volta poco vediamo il vaso poco per volta da un vaso di 20 potremmo passare un vaso di 24 25 centimetri di diametro per due anni saremo a posto per due anni ci ripenseremo quindi anche qui deduco che perciò la potatura sarà qualche spuntatura quindi è una pianta che si auto si autoregola possiamo dire non dà proprio zero di mandi di 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 attenzione non ne vuole poco l'esposizione e sole e meglio è quindi ce la mettiamo sul balcone e anche lei come come gli altri agumi dobbiamo stare attenti a leggere e grandi gelate giusto e all'acqua sempre che quindi sotto lì nulla niente sotto vaso l'acqua deve andar via deve drenare deve ristagnare bene ci sono vari tipi hai detto di oltre quello ovale rotondo rotondo ci sono due o tre tipi c'è il crassifolia c'è il japonica però cambia un pochino il frutto ma il sapore è simile non è non c'è tanta differenza sono tutti buoni bene bene da usare da mangiare quindi allora maurizio ci riconsiglia sicuramente ricordate il nome giusto che con 4 con 4 ovale perfetto allora noi ormai vi salutiamo perché sta calando anche la sera qui a pesca vi rimandiamo al prossimo video ricordate sempre di mettere un bel pollice all'insù e condividetelo nei social ciao alla prossima